benvenuti in questa nuova puntata che poteva anche essere un let's play ma è rimasta semplicemente un riassunto anche per il tipo di gioco che andiamo ad affrontare che è questo qua insomma un nuovo episodio un nuovo capitolo interazione reincarnazione di dragon ball in dragon ball buio rezude oppure molto più romanticamente tradotto in francese l'appel du d'està che è bellissimo è un gioco che come vedete ha un menu molto molto risicato quindi c'è la storia combattimenti e le opzioni quello che interessa a noi è la storia fondamentalmente come vedete ci sono vari personaggi dopo spiegheremo bene perché per come anche il fatto del titolo e personaggi che hanno una loro storia una storia che non rispecchia quella del fumetto o del cartone animato è una specie di what if cioè si basa vagamente su quello che ogni personaggio fa e non fa ma presenta nuove situazioni e molto qua una storia molto molto ossuta quindi niente di troppo elaborato c'è un'introduzione come vedete adesso per freezer e non c'è neanche in tutti i personaggi questa introduzione quindi così un po a random come veniva veniva però proviamo andare un po con ordine ci sono varie cose adesso dopo questa prima introduzione intanto perché un riassunto perché come dicevo ok a parte che tutto quello che c'è stato prima di dragon ball z fighters è da praticamente dimenticare di eliminare ok lo sappiamo tutti però facciamo finta che quel gioco non esista e vediamo un po cosa succedeva prima quindi cosa cos'era il mondo di dragon ball dal punto di vista del videogioco prima intanto quindi cosa facciamo lo vediamo in questo caso specifico vi propongo alcuni combattimenti con alcuni personaggi ho scelto per primo freezer perché è diciamo così il mio personaggio preferito c'è poco da parte in questo caso se la vede contro krillie che poverino già dalla partenza aveva poca speranza di vincere però come in tutti poi i giochi videogiochi di dragon ball i vari personaggi hanno tutti più o meno lo stesso potenziale perché altrimenti ovvio che non avrebbe senso nemmeno più fare videogiochi picchiaduro di dragon ball perché questo gioco esiste perché dragon ball in giappone prima e poi in tutto il resto del mondo è stato veramente un successo di portata proprio indescrivibile mai forse qualcosa di capitato prima ecco nell'industria dell'intrattenimento dal punto di vista da tanti punti di vista perché non solo quello del fumetto o cartone animato e quindi veniva da sé che venissero prodotti giochi giochi e giochi qualsiasi cosa possibile immaginabile appartenesse al mondo di dragon ball e c'è da dire però che molto spesso come vediamo anche questo gioco fa non è che sia di questa gran qualità o imperdibilità proprio assurda un altro problema poi di non poco conto era la distribuzione perché scordiamoci tanto vediamo creale che fa una mossa veramente per cui lo adoro solo per questa mossa ecco se è meritato il la vittoria solo per questo comunque dicevo la distribuzione non è come adesso che il gioco è abbastanza a livello world wide una volta era molto più così di nicchia e abbastanza a rando ma anche quello infatti trago perché il la schermata il titolo era in francese e io ho detto anche il nome in giapponese perché non esiste una versione inglese cioè questo gioco è uscito in giappone e poi in europa è arrivato solo in francia e in portogallo cioè rendiamoci conto della cosa e tra l'altro allora in francia hanno ovviamente tradotto in francese e hanno cambiato perché allora in quel buiuretsude in giapponese si tradurrebbe più o meno in inglese come insomma la leggenda degli eroi coraggiosi e dei lottatori coraggiosi qualcosa del genere e invece in inglese è la chiamata del destino qualcosa del genere cioè cosa che non c'entra assolutamente niente e poi in questo in francia in portogallo invece cosa hanno fatto hanno preso la cartuccia giapponese e l'hanno portata in portogallo unendoci un un'altra cartuccia un kit diciamo così il mega k3 si chiamava che serviva per praticamente far andare le cartucce giapponesi su un sistema pal quindi un sistema europeo quindi di fatto quella portoghese era niente meno che la versione giapponese originale quindi solo un attimo rebrandizzata con una copertina nuova e stop finiva lì il discorso quindi tanto per dire come all'epoca venivano fatte le cose ecco e nel frattempo abbattuto il povero krillie adesso tocca a goku suonarle a freezer e questo ci porta come avevo appena appena accennato all'inizio al discorso personaggi e in questo gioco ne abbiamo 11 quindi gli undici poi principali della saga fin dover arrivata in quel periodo quindi dalle parti di sel personaggi che come dicevo bene o male hanno tutti lo stesso potenziale per forza di cose altrimenti non sarebbe mai stato possibile uno scontro alla pari e personaggi che sempre grosso modo si comportano tutti nello stesso modo e quindi sia combo sia proprio movimenti velocità e quant'altro è praticamente identica e uguale per tutti allora tanto spieghiamo un attimo come funziona un po dinamica di gioco come vedete c'è la prima barra sopra che è quella dell'energia quindi ecco l'unica cosa che cambia da personaggio personaggio è quante energia hanno fondamentalmente a disposizione quindi dove ovviamente goku freezer cell e i personaggi più forti hanno un po più di energia quindi la barra diventa anche verde per un pezzettino addirittura quindi un po più di energia e personaggi invece che ne hanno meno quindi krillie anche tranks goana anche ne ha un po meno energia e sotto invece la barra della forza spirituale il ki che ci permette di fare le mosse speciali premendo tutti e tre i pulsanti d'attacco l'energia spiritica o spirituale o chi si ricarica e questo vediamo ad esempio una super mossa qui dopo diciamo anche come si fanno queste super mosse e ecco come adesso così si ricarica in questo modo ed è importante ovviamente che non vada mai a esaurirsi la barra la barra di sotto perché altrimenti il personaggio mi si affatica e mi rimane un po vulnerabile al nemico e poi per farlo prendere più in fretta bisogna premere velocemente i pulsanti vari pulsanti d'attacco comunque due o tre pugni e calci li si prendono sempre se uno va a finire in questa zona e quindi questo discorso vale un po per tutti i personaggi quindi non ci sono assolutamente differenze e proprio per le combo che poi con le combo sinceramente non le ho imparate ci sono varie mosse per i vari personaggi ma non sono stato lì a impararle sinceramente molto bello scoprirle così avrando dicevo queste super mosse o comunque le mosse speciali dei vari personaggi sono meno male tutte uguali al solito mezzaluna e tutte vengono effettuate col pulsante cioè mezzaluna o comunque le varie combinazioni classiche da picchiaduro più pulsante del pugno e col calcio solo pochi con il pulsante del calcio solo pochi personaggi fanno qualche mossa particolare veramente la minima parte se poi ci aggiungiamo che il gameplay come vedete abbastanza lento quasi da picchiaduro strategico possiamo perfino dire capite come la freneticità dell'azione vada un po a farsi benedire e questo fa diventare il gioco un po ripetitivo perché anche adesso state vedendo che bene o male il nemico va colpito con c'è il pattern è ricaricarsi di energia spirituale colpire il nemico con le mosse speciali ricaricarsi l'energia e ricolpirlo con le mosse speciali grosso modo si fa questo giocando contro il computer intanto siamo passati a un nuovo scontro vegeta contro sel ecco in questo caso vegeta non ha le solite combo gli altri personaggi non mi sono non volevano voglia di andarmi a vedere quali fossero le sue combinazioni mi sono fatto bastare quello che di comune ha con gli altri personaggi sempre per il solito motivo per cui siamo tutti capaci di andare a vedere le mosse e fare combo su combo ma è più interessante secondo me scoprirsi da solo e se uno li scopre bene se uno non li scopre fa con quello che ha fa il meglio che può con quello che ha ecco parentesi molto fico altra cosa che non si vede praticamente in questo video ma esiste proprio secondo me anche un po inutile è che premendo uno dei pulsanti attacco il nostro personaggio si alza in volo e quindi la battaglia potrebbe proseguire idealmente in cielo cosa assolutamente come dicevo inutile perché il comportamento dei personaggi mentre volano è identico a quello che hanno sul terreno quindi tu volevano aggiungersela secondo me per dare un po l'idea di quello che succede poi nel cartone animato su metodo di dragon ball ma non è stata resa molto bene sono più belle linee se vogliamo le animazioni quando magari avete visto qualche volta capita il personaggio da una gomitata una spallata all'avversario l'avversario vola via fa molto fa molto no molto no però ecco grosso modo il gioco è tutto qua non c'è molto altro da aggiungere anzi praticamente niente e quindi dicevamo ogni personaggio ha una propria storia quindi un proprio background più o meno sviluppato poco comunque in generale poche mosse uguali un po per tutti i personaggi poche modalità perché oltre a questa storia la storia come dicevo prima c'è il combattimento contro il computer o magari ecco cose più interessanti ecco 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 la mossa quella dove l'avversario vola via carino dai oppure quella contro l'avversario umano che non era molto frequente nei giochi di dragon ball poter affrontare un proprio amico appunto in un combattimento ma questa è un'altra storia che magari vedremo forse chissà in altri video in definitiva quindi un gioco abbastanza semplice o semplicistico in cui tra l'altro la intelligenza chiamiamola così dell'avversario non è così sviluppata qualcosina penso mi sembra dovrei andare a riguardare si può modificarne le opzioni ma niente di esageratamente sconvolgente una volta imparate le mosse speciali o comunque anche andando sempre con le stesse tre mosse l'avversario viene sconfitto abbastanza agevolmente in questo caso magari ecco qualcosina di più potevano farlo potevano implementarla gli sviluppatori però va bene insomma ce la facciamo andare bene non è un grosso problema e nonostante tutto quello che ho detto non è che poi tutti questi aspetti siano così limitanti o negativi il gioco è preso a piccole dosi anche piuttosto divertente dai è carina anche la possibilità di affrontare un avversario umano quindi un proprio amico stiamo parlando sempre di un picchiaduro estremamente scarno quindi dimentichiamo tutto quello che abbiamo visto recentemente nel mondo di dragon ball ma è giusto una curiosità ecco questi giochi ce n'è anche uno molto simile a questo più bellino è per super nintendo però sono sempre giochi che veramente finiscono del dimenticatoio molto molto facilmente ad esempio anche in questo caso c'è lo scontro cell contro freezer allora cell è un praticamente una quasi copia in colla di goku parte perché dicevo non hanno personaggi delle mosse specifiche al di là di qualcosina forse qualcosa che ricorda vagamente la loro controparte cartacea o cartonesca ad ogni modo questo è quanto qualcosa abbiamo detto qualcosa non abbiamo detto si è capito qualcosa qualcosa sicuramente non si sarà capito però insomma un'idea magari ce la siamo fatta e adesso per la parte del gameplay puro vi lascio intanto alla fine di questo scontro che secondo me devo finire adesso perché con questa super mossa freezer se ne torna nell'aldilà ecco infatti ciao freezer e ci vediamo l'ultimo scontro proprio così integrale senza il mio commento mio imperdibile commento e noi nel frattempo ci sentiamo per un nuovo entusiasmante video un'altra volta forse con un let's play forse con un riassunto di un gioco chi può dirlo se non è il destino se non l'appello di un destino se non è il destino se non è il destino Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.